Oggi credo che sia stata la miglior prestazione tecnica dell'Asti in questo campionato qui, soprattutto il primo tempo, dove siamo andati oltre a giocare bene atleticamente, siamo andati anche forti atleticamente e quindi il primo tempo abbiamo fatto molto bene, non che il secondo tempo non abbiamo fatto una buona partita, anzi è stata in controllo, abbiamo avuto tante situazioni per fare gol, quindi la squadra nei due tempi ha dimostrato vitalità e soprattutto un buon possesso, una buona qualità di gioco. Ma è stata una grande partita, sapevamo che non era facile perché loro arrivavano da una sconfitta importante, quindi ci voleva subito trovare un gol, partire forte, siamo stati bravi e faccio i complimenti a tutta la squadra perché abbiamo fatto una grande prestazione. Secondo me è un'ottima prestazione, siamo partiti subito forte, volevamo riscattarci dalla sconfitta di domenica e siamo partiti subito aggressivi, belli offensivi e infatti nel primo tempo eravamo già in vantaggio 3-0 perché secondo me abbiamo gestito al meglio sia la fase difensiva che offensiva. Grazie per la visione, grazie per la visione.